Un nuovo giocatore è stato comprato proprio, pensate, a Lecce, alla squadra chiamata Lecce, squadra tipicamente salentina. Si tratta di Samuel Utiti, difensore, campione del mondo, in carica con la nazionale di calcio francese con la Francia. Il Lecce lo va a comprare, è nato nel 1993, arriverà proprio a Lecce, cioè è arrivato nella Lecce, nella serata di Ieni, per avere o mai per tenere tutte le visite mediche nel caso. Arriva nel salento una formula di prestito secco, ingaggio canchiuso da Barcellona, il sodalizio con i giallorossi garantirà a costruire dei piccoli bonus che poi metterà a lui ovviamente di sistemarsi bene. Dunque, in Lecce si prende un buon calciatore, un calciatore di livello, Samuel Utiti, che ha fatto parte, comunque fa parte, della nazionale di calcio francese da Francia. Iscrivetevi al canale, commentate, e tanti a voi di buon lavoro a Utiti. Spero che vi faccio bene il suo lavoro. Ciao!